La parola, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro delle Politiche Sociali, Onorevole Luigi Di Maio. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente Sangalli, buongiorno a tutta l'Assemblea di Union Camera. Per me è un grande piacere essere qui. Saluto tutte le istituzioni presenti e tutti i rappresentanti del mondo produttivo italiano. Sono di ritorno, ieri sono rientrato da una missione di sistema negli Emirati Arabi con molte imprese italiane. In realtà era la missione di sistema con record di imprese che avessero mai partecipato ad una missione del genere. Siamo stati insieme a molti di voi, molte rappresentanze di categoria. E lì, ancora una volta, quando porti avanti queste missioni, ti rendi conto di quanto la reputazione dell'Italia sia preceduta proprio dal buon lavoro, dall'eccellenza delle nostre imprese e dei nostri sistemi produttivi. Stiamo costruendo lì la struttura principale dell'Expo Dubai 2020 con un'azienda italiana. Abbiamo partecipato a grandi opere infrastrutturali. In tutto il mondo e anche lì viene fuori sempre il fatto che la nostra eccellenza e la nostra grandezza ci precedono come fama e consentono a tante altre nuove imprese di avere nuove opportunità di business. Credo che sia stata un incontro, sia stata una missione molto importante, proprio perché due terzi delle imprese che partecipavano non avevano mai partecipato ad una missione di sistema. E queste sono nuove opportunità. Inizio così a questa Assemblea per dire che noi abbiamo sicuramente un momento economico europeo che ci vede in difficoltà come Stati dell'Unione. E questo credo sia anche legato al fatto che in questi anni alcune misure di austerity, non tutte, ma alcune misure di austerity abbiano indebolito e non rafforzato la nostra economia europea. E così alle prime tensioni commerciali come questa lotta tra giganti, tra Stati Uniti e Cina e la Brexit, la nostra economia europea si è indebolita fortemente. Però in questo momento di difficoltà europeo l'Italia spicca ancora una volta. I dati sulla produzione industriale, gli ultimi, non sono meriti del governo, sono meriti dei nostri imprenditori, della nostra manifattura e di quello che fanno ogni giorno, dicono che l'Italia è locomotiva nella produzione industriale di tutta Europa in questo momento. Più 0,8% della produzione industriale italiana contro meno 2% della Germania e 0% della Francia. Certo non possiamo esaltarci per un più 0,8% ma possiamo anche dirci che in un momento in cui si sta fermando la locomotiva d'Europa, cioè la Germania che prevedeva un PIL a più 1,9% quest'anno e adesso sta combattendo per più 0,5%, ha rivisto ancora a ribasso le sue stime, l'Italia con le proprie imprese, la propria industria ha qualcosa da dire, ha molto da dire all'Europa. E ha molto da dire per una ragione, perché noi siamo l'ottavo brand al mondo, il brand Italia, e credo possiamo fare ancora di più, in rating e in valore quel brand continua a crescere e questo ci consentirà nei prossimi mesi di incrementare ancora di più le esportazioni che incidono direttamente sulla produzione industriale italiana. Esportazione non è solo portare prodotti all'estero, esportazione è anche portare le nostre imprese internazionalizzandole, permettendole di affrontare delle grandi sfide come quella che stiamo affrontando a Dubai, ma come le stiamo affrontando in tutto il mondo. Perché quando un'azienda va lì, porta con sé tutta la filiera e incide sulla produzione industriale italiana. E questo aiuterà anche la domanda interna. Io credo che siamo in un momento in cui, se restiamo uniti come governo e corpi intermedi, perché questo Paese non si governa senza il dialogo con i corpi intermedi, riusciremo a fare tantissimo in questo momento di difficoltà europea. E dico tantissimo perché sicuramente il fatto che l'Istat abbia detto che il decreto crescita abbasserà le tasse sulle imprese non è merito di questo governo, è merito di un dialogo che abbiamo portato avanti sul decreto crescita, con molti di voi, poi si può fare sempre di meglio e potremo fare di meglio nella fase di conversione. Il lavoro fatto sullo sblocca cantieri, che oggi viene mandato finalmente con un'ultima delibera del Consiglio dei Ministri in gazzetta ufficiale, questo lavoro ci consentirà di affrontare un momento di crisi europeo, che però risente dei nostri problemi endemici, che citava il Presidente Sangali, la burocrazia, il problema di coordinamento, il problema legato agli investimenti. Dire che d'ora in poi, se un cantiere vede un rallentamento nel cronoprogramma, lo possiamo commissariare con il metodo che abbiamo utilizzato come governo per la TAV Napoli-Bari e che ha portato i suoi frutti rientrando nei punti del cronoprogramma, e quindi nei tempi del cronoprogramma, ci permette anche di dire che invece di fare una marcatura a zona contro la burocrazia, facciamo una marcatura ad uomo e cerchiamo di essere il più incisivi possibili. Basta solo questo? No. Sui cantieri c'è tanto da fare. Cercheremo di farlo al meglio, nel dialogo continuo con le imprese. Noi al Ministero dello Sviluppo Economico stiamo seguendo con molta apprezzione quello che sta accadendo ad alcuni giganti delle infrastrutture, condotte S.p.A. e in amministrazione straordinarie. Abbiamo altre aziende, che preferisco non citare perché sono ancora in esercizio di mercato totale, che sono inconcordato. Questa preoccupazione l'abbiamo condivisa anche con ANCE, con l'Associazione Nazionale di Costruttori Edili, con i quali abbiamo deciso di creare una sezione del fondo di garanzia per permettere alle imprese che hanno difficoltà con i pagamenti nel mondo dell'edilizia di poter avere delle garanzie in modo tale da evitare di trovarsi in crisi e non riuscire a pagare quelli che sono i fidi e i prestiti a cui hanno attinto per anticipare gli investimenti. Lo faremo nel Decreto Crescita cominciando un po' ad abbassare la pressione fiscale. Portiamo al 60% gli sgravi IMU sui beni strumentali. Significa che sostanzialmente triplica quello che era prima che si insediava il Governo e speriamo di arrivare al 100% nei prossimi due anni. Reintroduciamo il superammortamento a testimonianza del fatto che questo Governo, quando vede che ha sbagliato qualcosa, è disposto a tornare indietro e a reintrodurre uno strumento che sicuramente aiuterà gli investimenti. Senza sacrificare l'abbattimento dell'IRES che significa che andremo gradualmente ad abbassarla per tutte le aziende che lasciano i capitali utili in azienda e non li distribuiscono e quindi reinvestono all'interno dell'azienda. E lo faremo sicuramente con un gioco di squadra che riguarda la formazione e l'innovazione. Ieri è stato raggiunto questo accordo, ovviamente c'è molta ironia intorno al tema dei navigator. Ieri abbiamo raggiunto l'accordo in conferenza Stato-Regioni perché sto facendo questa cosa? Perché secondo me possiamo convenire su un fatto che i sistemi di formazione regionali molto spesso non rispondono alle esigenze delle opportunità occupazionali che anche le imprese offrono. Perché a volte, lasciatemelo dire, in alcune regioni non si fanno i corsi per formare le persone ma si formano le persone per fare i corsi. E questo in questi anni ha bloccato un sistema di formazione che doveva servire ad affrontare le nuove sfide dell'innovazione e della tecnologia che stanno cambiando i mondi del lavoro. Con il sistema dei navigator riusciremo a dare una regia alle formazioni regionali e a metterle in contatto col mondo dell'impresa. Tra l'altro io sono dell'idea che la migliore formazione è quella che si fa nelle aziende, nelle imprese e noi dobbiamo creare sempre di più un continuo contatto tra questi due mondi in modo tale che il personale del sistema pubblico di formazione debba solo indirizzare la persona e finanziare l'azienda per la formazione che farà a carico suo. Dico tutte queste cose perché sicuramente ci prepariamo ad una traversata importante che è quella di far uscire l'economia europea da queste difficoltà. Una buona notizia arrivata ieri è quella che gli Stati Uniti e la Cina stanno per chiudere l'accordo. Dovrebbero farlo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Questo abbasserà sicuramente le tensioni commerciali in cui siamo stati coinvolti. Ma allo stesso tempo, senza voler offendere o sfidare il Regno Unito, noi dobbiamo creare delle condizioni economiche qui perché alcune delle aziende che vorranno andare via dall'Inghilterra a causa della Brexit vengano in Italia e attrarre ancora di più investimenti qui. Per farlo, sicuramente uno strumento sul quale stiamo lavorando e accelereremo sono le zone economiche speciali. Le zone economiche speciali del Sud possono essere un'opportunità di investimento e di attrazione di investimento. La prima che è partita è quella campana, nella quale abbiamo messo anche più risorse nell'ultima legge di bilancio, abbiamo semplificato qualcosa in più, ma dobbiamo accelerare anche perché c'è Intesa San Paolo che ha deciso di investire un miliardo e mezzo di euro nelle zone economiche speciali. E a proposito di traversate, il ruolo delle Camere di Commercio. Come diceva il Presidente Sangalli, è stata ed è tuttora una traversata che vi vede a metà, tra una sponda e l'altra. E credo che si stia intravedendo l'altra sponda da raggiungere di questo fiume. Anche io credo che non si possa tornare indietro. Ma condivido pienamente tutte le preoccupazioni della fase di attuazione di questa riforma. Ed è per questo che vi dico che sono a vostra disposizione, anche da domani, con un team di lavoro permanente che possiamo costituire al Ministero dello Sviluppo Economico e seguire passo passo la fine di questa traversata e gli effetti che dopo vorremmo sistemare in quello che magari non va bene in questa riforma. Lo dico perché è un momento, immagino per voi, molto importante, nel quale alcune Camere di Commercio stanno facendo degli sforzi importantissimi per mettersi insieme, per interpretare anche delle differenze che ci sono al proprio interno, che poi sono differenze territoriali. La cosa che posso assicurarvi è che questo Governo considera le Camere di Commercio uno snodo fondamentale per il percorso di crescita e sviluppo dell'Italia. Essere fondamentali significa non solo quello che condivido pienamente, l'importanza del registro delle imprese che deve diventare il registro per le imprese, ma anche tutte le politiche sull'export che voi già portate avanti e che possiamo rafforzare nel rapporto. Noi abbiamo una difficoltà che oggi le grandi aziende italiane, non solo le partecipate di Stato, riescono ad affermarsi con molta forza su alcuni mercati internazionali, su molti mercati internazionali. E loro stesse mi chiedono di poter portare con sé la filiera delle medie e delle piccole. Ma ci sono ancora grandi difficoltà che miglioreremo sia per quanto riguarda Sace, Icce, per riuscire a dare più supporto alle aziende che si muovono verso l'estero. E allo stesso tempo abbiamo delle eccellenze che a volte solo voi conoscete. Eccellenze su dei territori che sono iscritti alla Camera di Commercio e che hanno delle capacità e delle caratteristiche che noi a volte purtroppo colpevolmente ignoriamo. Sarà un lavoro continuo che potremo fare nei prossimi mesi. Anche sull'innovazione. Ho apprezzato molto il fatto che tutto quello che avete efficientato, se così si può dire, dal contributo lo avete investito in innovazione. Il tema dell'innovazione è fondamentale. Ancora una volta all'estero guardano con molta attenzione il fondo che nei prossimi giorni sarà deliberato da Cassa Depositi e Prestiti che si chiamerà Fondo Nazionale Innovazione. Aumentiamo del 300% gli investimenti nell'innovazione in Italia che significa che creiamo un fondo di venture capital per start-up innovative e scale-up innovative che siano in grado di produrre innovazione in Italia per le imprese italiane e non andare più a farsi finanziare a Berlino, a Parigi magari depositando i brevetti lì e quindi regalandoli ad un altro paese. Perché questi ragazzi o questi meno giovani li abbiamo formati noi con le nostre tasse e dobbiamo finanziarli noi qui. Con questo finanziamento ci mettiamo al pari della Francia di tre anni fa che ha iniziato tre anni fa e adesso sta creando un distretto sull'intelligenza artificiale a Parigi. Lo potremo fare con due miliardi di euro un miliardo di soldi pubblici che saranno su questa SGR di CDP e un altro miliardo che attrarremo con gli investimenti privati una parte dei fondi anche che ho incontrato negli Emirati e che sto incontrando in giro per il mondo. L'innovazione sarà fondamentale per le nostre imprese e non lo devo dire a voi voi siete quelli che hanno partecipato alla creazione di Impresa 4.0 lo faremo sempre di più perché anche Impresa 4.0 si evolverà in base all'evoluzione delle tecnologie per esempio quest'anno è entrato il cloud in Impresa 4.0 perché sarà fondamentale e voglio dire un'altra cosa e poi vado verso la conclusione sicuramente il lavoro che fate è un lavoro enorme a servizio delle imprese ma potrà essere molto di più a servizio del governo nel senso che il contributo di big data di informazioni e di esperienze che avete noi potremmo utilizzarlo molto di più per utilizzarlo molto di più avremo bisogno di un coordinamento maggiore è un coordinamento che io mi impegno a fare molto di più e a stimolare molto di più sia a livello territoriale sia a livello centrale con il presidente Sangalli in questi mesi abbiamo affrontato alcune questioni importanti ne potremo affrontare molte di più perché io credo che ci siano alcuni dati incoraggianti che possano vedere l'Italia in cima a questa fase di difficoltà europea quasi a dare una strada per uscirne e non lo dice solo il dato sulla produzione industriale lo dice il dato per esempio sulle esportazioni di gennaio più 2,9 ogni volta che migliora quel dato segniamo un nuovo record in valori assoluti di esportazioni nella nostra storia perché il 2018 ha segnato il record assoluto di esportazioni italiane e potremo migliorarlo ancora di più lo dicono i dati sul brand Italia che continua a crescere in valore e in rating e lo dicono tante realtà produttive che stanno nascendo in Italia ad eccellenza non solo nel mondo dell'innovazione che possiamo coinvolgere in questo processo quindi la mia parola d'ordine è dialogo ed è dialogo soprattutto in questa fase in cui siete a metà del guado e voglio che lo attraversiate col massimo della serenità e delle possibilità di efficienza ed efficacia delle camere di commercio per questo il mio ministero è a vostra disposizione che poi non è mio è degli italiani il ministero che rappresento è a vostra disposizione da subito per poter seguire questa fase conclusiva della riforma e anche mettere a posto non appena sarà conclusa tutto quello che va migliorato magari cose che non erano neanche nella riforma cose che dobbiamo cominciare a fare e che non abbiamo mai fatto io sono dell'idea che dobbiamo dare più potere alle camere di commercio su alcuni asset su questo c'è l'esportazione l'innovazione c'è la sburocratizzazione e per farlo non iniziamo da qui ma continuiamo da qui grazie a tutti grazie